È gravemente indiziato di violenza sessuale e tentata violenza sessuale su minorenne, il 61enne arrestato stamani dai carabinieri di Caltagirone. L'uomo finito in manette a un preside a far partire l'indagine è stata lo scorso maggio la denuncia presentata da una quindicenne di una scuola del comune di Gran Michele. La studentessa sarebbe stata chiamata più volte nell'ufficio del preside e avrebbe ricevuto pesanti avance da parte del funzionario scolastico. Stessa dinamica sarebbe accaduta da altre sei adolescenti ascoltate nel corso dell'inchiesta dagli uomini dell'arma alla presenza e con l'ausilio di uno psicologo. Davanti al GIP di Caltagirone durante l'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha rilasciato dichiarazioni spontanee l'indagato per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari.